Ricevitoria Gerace a Montepone-Ripo Da noi puoi giocare Superera 8, Totogol, Totocalcio, Tris Giornaliere e Win4Life ogni ora Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio Ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone-Ripo Su di noi puoi scommetterci Bisogna stare molto attenti a ciò che ci circonda Perché a volte improvvisamente qualcosa zucchera la nostra giornata Questa che state per vedere non è solo una partita di calcio È il canto della neve che si scioglie e diventa acqua pura Gentili te spettatori di S1 TV Buon pomeriggio e benvenuti al Frabotto Mannis Per la 29esima giornata del campionato di prima categoria Girone C E noi di S1 TV vogliamo fare le coreografie dal di dentro Siamo all'interno della splendida coreografia che i tifosi del Montepone E in particolare le mamme delle scuole calcio del Montepone Hanno organizzato per ricordare quello che è sempre nei nostri cuori Gregorio Vatrella numero 10 Quindi anche a nome dei papà che ce lo richiedono Sì, Gregorio Vatrella Oggi lo ricordiamo tutti insieme con l'affetto, col cuore Che ci lega a lui, che ci guarda dal paradiso E stanno per scendere in campo agli ordini del signor Gioacchino Platì di Catanzaro Le squadre del Real Montepone e del Badolato Pronte a darsi battaglia ricordando Gregorio E dando un valido applauso a tutti questi tifosi Che hanno fatto il sold out al Frabotto Mannis E ci stanno dando insieme ai loro figli e ai bambini che amano il calcio Una grande lezione di sport e di amore Così come avrebbe voluto Gregorio Dicevamo agli ordini del signor Gregorio Platì Ed è sempre la squadra esterna 65 di S1 TV Guidata da Pasquale Lentini, Antonio Siciliano Con Maurizio Vatrano, Giuseppe Ranieri e la voce di Giorgio De Filippis Che vi salutano e anche se non state vedendo niente Provate a guardare con gli occhi del cuore Quel cuore che ci permette di unire l'amore per il calcio Al ricordo di un amico che purtroppo non c'è più Le formazioni che oggi scenderanno in campo Vedono il Badolato schierare Audino, Raffaele Romeo, Cavallaro Matteo Carnovale, Pultrone e Catanzariti Vetrano, Marco Carnovale, Cabba, Cosentino e Asci In panchina accanto a mister Gesualdo Calabrese Ci sono Kemal, Leuzzi, Menniti e Pizzi Il Monte Paone risponde Stanno entrando ora con i palloncini a forma di cuore E vi debbo confessare che la commozione è tangibile E siamo veramente nel pieno di uno splendido momento coreografico Il Monte Paone dicevamo schiera Lombardo, Fiorentino Ienco, Mellace, Conidi, Nania Doria, Marco Voci, Procopio, Cannistra e Domenico Voci Mister Alessandro Pisano Porta con sé in panchina Leone, Sinopoli, Fol, Paparazzo E si tratta di Antonio del 91 Paparazzo dell'89, Mungo e Carpino E allora noi, ripeto, non riusciamo a vedere niente Ma perché abbiamo voluto essere al centro della coreografia A parte di questa coreografia nel ricordo appunto di Gregorio Chiediamo a Giuseppe Ranieri Che ci accompagna in quest'ultima cavalcata interda Qui al Frabotto Mannis È un momento dove il cuore prevale sulla vista È un momento di cordoglio Amici sportivi, buon pomeriggio Da Giuseppe Ranieri Un momento di cordoglio per ricordare Un calciatore scomparso prematuramente Che qui a Montepaone ha dato tanto Su questo campo ha solcato con i suoi tacchetti Ha regalato un bel calcio Il calcio si sa, è così Lealtà e sportività E tutti adesso lo ricordiamo con affetto Ed ecco, vediamo anche i bambini stessi per terra Formare una G e una V Con poi il numero 10 Mentre i giocatori vanno a salutare le rispettive panchine E allora, a nome di tutte le mamme Abbiamo qui una mamma che stanno scappando tutti Allora avevamo una mamma che dice Questi sono bei momenti Stanno imparando qualcosa i vostri figli Non posso parlare Non può parlare Abbiamo trovato l'unica mamma che non parla E allora, dicevamo, anche i papà ci sono Un momento bellissimo Vale più di tanti insegnamenti Vedere queste cose Certo, è una bella cosa Vedere i nostri bambini Fare il tifo per il Montepone E siamo qua tutti uniti per tifare Montepone Forza Montepone Grazie E quindi noi ringraziamo anche Pasquale Lentini Che sta cercando di bypassare quella che è la fotografia di Gregorio Vatrella Che ora si abbasserà Mentre tutti i bambini vanno poi fuori del campo E salutano la maglietta di Gregorio Vatrella La maglietta di Gregorio Vatrella Che è sempre lì all'angolo Alla bandierina più vicina alla tribuna Proprio per ricordare tutto questo Ecco lo striscione anche di Gregorio Vatrella I coriandoli Sono comunque bei momenti Non sappiamo come andrà a finire questa partita Ma sappiamo già che siamo felici Di aver fatto qualcosa di positivo E quindi stanno per partire le due squadre Intanto hanno già svolto tutti gli adempimenti Ecco che torna anche la visuale Qui dalla tribuna stampa del Frabotto Mannis E dicevamo appunto che il Badolato Si presenta con la consueta divisa totalmente rossa Con inserti gialli Mentre divisa da trasferta per il Montepone Nera per quanto riguarda la maglietta I calzoncini e i calzettoni Con inserti a loro volta gialli E quindi questa è la partita importante È una partita che dovrebbe consolidare La posizione di primo in classifica del Montepone E viene dato proprio in questo momento E noi facciamo partire il nostro cronometro Il via a quella che è appunto una gara Che è la penultima di campionato L'ultima in casa E che vede il Montepone Primo in classifica Con tre punti di vantaggio Sul San Calogeno E quindi sono partite le due squadre Mentre stanno finendo i saluti Tra mister Pisano e mister Calabrese Due totem del calcio comprensoriale E noi entriamo subito in cronaca diretta Con Fiorentino che effettua questa rimessa Con le mani toccando per Procopio Che non si intende con Domenico Voci E la palla finisce in out Dove a occuparsi della battuta Sarà Cavallaro La rimessa però finisce tra i piedi di Conidi Che viene attaccato dal numero 4 Matteo Carnovale Ma riparte ancora il Montepone Colpo di tacco di Procopio E Canistrà che se ne va in velocità Duro intervento di Romeo Ma Canistrà resiste Entra in aria Tira E la palla viene bloccata agevolmente Da Audino Ma quando siamo Praticamente non è passato neanche il primo minuto di gioco Già possiamo annotare Quelli che sono Quest'attacco del Montepone Contrato dalla difesa del Badolato Domenico Voci Apre ancora per Canistrà Solo davanti al portiere Sinistro Procopio Non riesce Ad approcciare il pallone Su quello che era più un tiro Che un passaggio da parte di Canistrà E quindi il Montepone È partito con l'acceleratore a tavoletta E il Badolato si sta disponendo E quando incominciamo a ragionare Su quelle che sono le disposizioni Noi andiamo da Mimmo Cosentino A chiedergli non solo un pronostico Ma anche come stanno giocando le squadre 7-4-2 Ma come stanno giocando Ancora hanno appena iniziato Quindi Ma sicuramente Il Montepone farà il suo Questa gara Perché Diciamo che l'unica speranza È quella di vincere oggi Perché poi avrà L'ultima partita In casa del Mileto Dove Con una vittoria di oggi Potrebbe andare anche A giocare tranquillamente Per un pareggio Speriamo bene Ebbene oggi Ha davanti Un Badolato Che Quando Che sa anche giocare Insomma Quando vuole Diciamo I risultati li sa fare Però E quanto finisce Mimmo? Ma quanto finisce Non lo so Io mi auguro Che possa finire Con la vittoria del Montepone Però Il risultato Non te lo so dire Grazie anche a Mimmo Cosentino E quindi Aspettate un attimo Perché mentre vediamo Lo sviluppo e la partita E riusciamo anche A far scorrere il cavo Abbiamo alcuni dei protagonisti Tu eri in campo Per ricordare Gregorio Vatrella? Sì, sì, sì Come ti chiami? Francesco E di cognome? Gulla E ma dove eri? Nella G, nella V O numero 10? Nella G E invece il tuo compagno? Andrea Di cognome? Cuomo Ed eri nella G Nella V o nel numero? Nel numero Perfetto E l'altro tuo compagno Che sta mangiando le patatine? Nella G E ti chiami? Domenico E per chi ti fate? Montepone Ok, grazie a questi giovani giocatori Del Montepone E intanto c'è l'Eylander Mellace Che sta per battere Da una punizione Col destro E una posizione Simil di Bala Anche se un po' più accentrata Rispetto a quella calciata Ieri Dal giocatore La Juventus Si dispongono tutti i giocatori Grappolo umano Al centro dell'aria Parte il destro di Mellace Recupera la palla Canistra Gran tiro di Canistra Parata di Audino E ancora Procopio Che tra tre persone Difende la palla Conidi la mette in mezzo Colpo di testa Spazza tutto Pultrone La palla si impenna Esce Audino E recupera il pallone Ma il Montepone Si sta lanciando A pieno organico E siamo al terzo minuto Di gioco Nell'aria Anzi nella tre quarti campo Del Badolato Che cerca di ripartire In maniera ragionata In questo momento Cavallaro Che riceve la palla Interviene Conidi Colpo di testa E la palla Finisce in out Elegante tocco Di mister Calabrese Che restituisce la palla A Cavallaro Effettua la rimessa Con le mani Il numero tre Del Badolato Favorendo Un suo compagno Che cerca ora Di giostrare Si tratta di Cosentino Restituisce palla A Cavallaro Contrato con decisione Da Cannistrà E la palla Finisce ancora In rimessa laterale Con tutto il Badolato Che si schiera In posizione offensiva E il Montepone Che ci sembra Un classico 4-4-1-1 Con Procopio Come punta estrema Ma intanto Domenico Voci Colpisce i testa L'arbitro Ha visto qualcosa C'era un fuorigioco Di posizione Domenico Voci Giustamente dice Ho preso anche La pallonata E comunque Si ripartirà Con una punizione In favore del Badolato Giuseppe Oggi per l'ultima volta Sfruttiamo i mezzi Tecnologici Del Frabotto Mannis Hai un monitor Una var Insomma è tutto Per dirci la verità Su qualunque episodio Eh sì sicuramente Siamo da un punto di vista Tecnologico Molto 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 avanti E' una tribuna stampa Davvero Davvero eccezionale Che ci consente Di scrutare Ogni singolo episodio Grazie Giuseppe Con Mimmo Cosentino Che sta usufruendo Del catering Nella sua classica Poltroncina In pelle E riparte L'azione del Montepone Con il rilancio lungo Di Lombardo Di Lombardo A favorire Fiorentino Ma il controllo Non è dei migliori Ancora Cosentino Che riceve palla Gli viene strappata Da Mellace Con Domenico Voci E poi lo stesso Matteo Carnovale Che cercano Di darsi battaglia Ma con tranquillità Il Montepone Ricomincia A giustrare Partendo da Lombardo Con Conidi Che appoggia Per Mellace Arretrato In posizione Di playmaker Centrale A ridosso Della difesa L'apertura Vede appunto Ricevere palla Ancora Cannistrà Che scambia Con Nania E ancora Lombardo E Nania Che dialogano Lì dove Appunto Poi la palla Viene appoggiata A Ienco Ancora Nania Pressato Dal numero 9 Cab Il Montepone Cerca di allargare Il campo Per poter Meglio gestire I lanci lunghi Di Mellace Che ora serve Marco Voci Che parte in velocità Sicura L'uscita Di Audino Regolare anche L'impatto Perché nessuno È entrato Con cattiveria E quindi Fa su alla palla L'estremo difensore Del Badolato Facendo risalire La sua squadra E poi calciando Di destro A superare La metà campo Ribatte Fiorentino Domenico Voci Il tocco però Vede intervenire Sul pallone Cabba Ancora però Si chiudono Le maglie difensive Del Montepone Ed è ancora lui Gianmarco Lombardo Che riparte Facendo tessere La propria trama Difensiva Che poi però Diventa anche Offensiva Ai giocatori Della squadra Di Mister Pisano E Conidi Che tocca Per Nania Che riceve In posizione Di esterno Basso Di sinistra Con Ienco Che già Si è defilato A sinistra E parte in velocità Innescando poi Lo scatto di Procopio Che ha di fronte a sé Romeo Lo punta Si ferma Restituisce la palla Ancora Ienco Ovviamente oggi è impegnato A trovare A trovare la vittoria L'ultima gara Casalinga Per poi Concludere il campionato In quel di Mileto Le battute iniziali Di questa gara Stanno Stanno vedendo Comunque una gara aperta Dove comunque Il Badolato Si sta difendendo E si sta cercando Di proiettare Il Montepone Chiaramente Cerca di esercitare La solita supremazia Territoriale Perché sa L'importanza Nel capitalizzare Questo risultato Intanto la palla È finita In rimessa laterale Dopo un Teckel deciso Tra Cavallaro E Fiorentino Ed è Cosentino Che recupera la palla Per Matteo Carnovale Che però viene stoppato E poi Procopio Di spalla Serve Domenico Voci Ha di fronte a sé Flavio Pultrone Domenico Voci Torna indietro Con Veronica Allarga per Fiorentino Controllo di quest'ultimo Palla messa in mezzo Colpo di testa Di Cagnistrà Con la mano di richiamo Vola Sotto la trattata Traversa Vodino E mette in calcio d'angolo Dopo che questa azione Si era sviluppata Sulla destra Per concludersi poi Al centro dell'area di rigore Con un bel colpo di testa E l'elevazione Di quell'altro giocatore Di peso E di sostanza Anche tecnica Che è appunto Cagnistrà E Mellace Che mette ancora in mezzo Il pallone Cavallaro Ribatte Combattono corpo a corpo Vetrano E il suo diretto avversario Ienco Che era in posizione Quasi di ultimo uomo E l'arbitro Fischia comunque Un fallo E ci sarà la punizione Affidata ai piedi Di Cavallaro Che però la lascia Poi a Pultrone Un'altra bandiera Del calcio Badolatese In panchina C'è quell'Ettore Menniti Che sta sfidando Il tempo E continua Nonostante l'età Con grande professionalità A calcare I campi di gioco Del nostro comprensorio Il pallone Viene dato Consegnato A Mellace Da Lombardo Mellace Si allarga Per Nania Avanza tutto Il Monte Paone In questo momento Con tre difensori In difesa Esterno prelibato Di Nania Che fa partire Ienco Che mette la palla In mezzo In questo caso È stato eccessivamente veloce L'esterno del Monte Paone Che è stato più rapido Degli attaccanti Che lo seguivano E che quindi Non hanno potuto Chiudere l'azione Per quanto riguarda Appunto La fase offensiva Toccherà A questo punto Al portiere Audino Calciare Vediamo Che si appresta appunto A calciare di destro Ancora una parabola Altra Arriva all'altezza Del centro campo Mellace Non riesce a colpire Testa Cosentino Per Cabba Che recupera palla La difende E poi tocca ancora Per Cosentino Fiorentino esce bene Ma Cosentino Col corpo Protegge il pallone E conquista Validamente Una rimessa laterale Che viene affidata ancora A Cavallaro Come da competenza E Carnovale Si fa Vedere Però è Pultrone Che poi di sinistro Mette la palla In mezzo Il colpo di testa Viene intercettato Da Nania Il lancio in profondità Però vede Attento Romeo Nel rilanciare Ma Ienco Ruba palla Parte Marcovoci Che supera in velocità Romeo Si ferma Ienco recupera il pallone Mette in mezzo Salvatore Procopio Di sinistro Sul tocco di Ienco Dopo la penetrazione Di Marcovoci Salvatore Procopio Quando siamo giunti Al decimo minuto Del primo tempo Mette la palla Nell'angolino Dove Audino Non poteva arrivare E quindi porta Il Montepaone In vantaggio Un gol Di pregevole fattura Perché tutto il Montepaone È partito in velocità E poi il sinistro Di Salvatore Procopio Ha fatto sì Che al decimo minuto Il Montepaone Segnasse Il gol Che gli dà Una tranquillità Psicologica Importante E vedo che i miei amici Raccattapalle Giocatori del Montepaone Mi danno anche ragione Siete d'accordo? Sì Tu in che ruolo gioco? Di vencere centrale Perfetto E quindi questo è importante E intanto riparte appunto L'azione del Del badolato E noi Muovendoci Su tutta la tribuna Andando anche a disturbare I numerosi tifosi Salutiamo un altro Grande amico Di questa stagione Del Montepaone Maurizio Vatrano Si è messa bene subito Però un'azione Costruita con la volontà Da parte dei giocatori Del Montepaone Quella del gol Sì la volontà Ce la mettiamo sempre Diciamo che l'azione È nata da un errato E mancato Passaggio al portiere Del loro estremo Difensore O meglio Del loro centrale Sì Praticamente lì L'azione si poteva Naturalizzare E chiudere Invece non è stato fatto Ma è normale Sono dei Per lo più Il Badalotto oggi Si è presentato Con una squadra giovane Mentre noi abbiamo La formazione di tipo Assenza solo Di Bassi De Masi E volevamo sapere Quanta benzina C'è nel serbatoio Dei giocatori Del Montepaone Perché potremmo Chiudere il discorso Una settimana Potrebbe essere più lungo E vogliamo essere certi Di avere benzina Per arrivare anche Al prossimo campionato Fisicamente Le forze Incomincino Sicuramente A mancare Ma c'è di controparte A considerare Che queste Emergeranno Sicuramente Per fare Il rush finale Vista La ghiottissima Occasione Che durante Tutto l'anno Abbiamo costruito Minuziosamente Cercando di Non fallire Nessun colpo Perché quest'anno È stato veramente Un campionato Che se ne dica Spesso sento Dire di basso livello Ma non riesco A capire Su quali piani Si possono fare Queste considerazioni Anche rispetto Agli altri gironi Dobbiamo tenere In considerazione Che c'è stata Una squadra Che è partita A razzo Meglio non si può fare La Mezzia Che con una formazione Veramente D'alto livello Con giocatori Di esperienza Di promozione Alcuni di eccellenza Considerando pure Il brasone Ma la città E le potenzialità Della squadra Quindi tenerla dietro Non è stato affatto semplice Considerando tutte queste cose È stato un anno Veramente Lungo È duro Che ancora Dobbiamo chiudere Grazie Maurizio Torna al tuo lavoro Che è preziosissimo Per mister Pisano E quindi Intanto la palla è finita Sul fondo E vediamo appunto Che sarà ancora Audino Quando siamo giunti Al tredicesimo minuto di gioco E 36 secondi Con il Montepaone In vantaggio Sul badolato Per 1 a 0 E Canistra Che sale al piano superiore Per colpire di testa Un pallone Che poi viene recuperato In bello stile Sempre dai giocatori Del Montepaone Con Cosentino Che però si inserisce E poi si ferma elegantemente Evitando il ritorno Di un avversario Scambia con Cabba Impreciso il passaggio Ma Cabba va a recuperare A sua volta la palla Sovrapposizione di Cosentino Parte in velocità Lo stesso Ma è Ienco Che si frappone Questo Millennials Che ormai è diventato Un giocatore Di provata esperienza Si frappone Col fisico Ienco E mette la palla In rimessa laterale Con il badolato Che però chiaramente Non ci sta A fare soltanto Da sparring partner Per blasone Per caratteristiche Per anche bravura Dei singoli giocatori E quindi si porta All'interno Della metà campo Del Montepaone Trascinato ci sembra In questo momento Da un Cosentino Che pettina la palla Con eleganza Anche se poi viene fermato Ed è costretto A metterla In rimessa laterale Giuseppe Psicologicamente Fare un gol subito Conviene Oppure ti fa pensare Che la partita è vinta E quindi magari Ti rilassi E poi gli avversari Rimontano Vedi Quella partita di ieri Tra Atalanta e Juventus Ma vabbè Tra Inter e Juventus Vabbè Nerazzurri C'è anche il Latina Il Pisa Sì sì Sicuramente Va bene No vabbè Sarebbe un grande errore Quello dell'undici di Pisano Rilassarsi Quando siamo giunti ormai A sull'1-0 Alle battute iniziali Di questa gara Il Badolato comunque Sta cercando di esprimere Un buon calcio Sta macinando Gioca il ritmo Con Cosentino E Cabba Lo abbiamo visto Negli ultimi due episodi Ma Non credo proprio Che questo sia L'atteggiamento Dello scacchiere giallo-verde Che è iniziato Giusto per rompere L'equilibrio E proseguire Per insaccare la vittoria Grazie Giuseppe Intanto sul lancio Di Marco Carnovale La palla Ha scavalcato Anche l'uscita Di Lombardo Ed è finita Direttamente Sul fondo E quindi Cogliamo l'occasione Anche per salutare I giovani Che stanno prestando Il servizio Come raccattapalle Dietro le due porte Vediamo due Nella porta più lontana Molti di più Quelli nella porta Più vicina Allo spogliatoio E ancora Gianmarco Lombardo Che riceve palla E la scarica Poi su Nania Che controlla Di destro E appoggia ancora A Mellace Che alza la testa E poi sventaglia Per Fiorentino Ancora uno stop Di quelli da incorniciare Con Procopio Che alza il pallone Lo mette in mezzo Arriva Canistra Ma fa muro Asci E col fisico Permette poi L'uscita di Audino Che quindi Recupera il pallone E si prepara Al rilanciare Quando abbiamo esaurito I primi 16 minuti Di gioco E Cosentino Elegantemente Stoppa il pallone Per poi appoggiarsi Su Cavallaro Finta del giocatore Scarico verso Carnovale Si tratta di Marco Il numero 8 Mentre Matteo Il numero 4 Ma la palla Ancora viene bloccata Dall'attenta difesa Del Montepaone Che per posizione E spirito Appunto di gioco Di squadra È una difesa Difficilissima Da superare Ancora Mellace Lancio in profondità Parte il Cristiano Ronaldo Del Montepaone Si tratta di Doria Che però non riesce Ad arpionare il pallone Così come avrebbe voluto Anche in questo caso Si è trattato Di un lancio Leggermente lungo Ricordiamo Che il Montepaone Ha subito in casa Soltanto 5 reti E per giunta Non da squadre Che nell'arco del campionato Poi hanno ricoperto Posti elevati Nella classifica Il Monasterace Il Mileto La Serrese Il Chiaravalle E il Mammola Che è stato quello Che al momento Col suo quinto Sesto posto Rappresenta la squadra Di maggior rango Che abbia violato Qui al Frabotto Mannis La porta del Montepaone Ancora Doria Che protegge il pallone Subisce il ritorno Di Matteo Carnovale Che riceve anche Un'ammunizione Dal signor Platì Che forse In questo caso Eccede Ricordiamo Che troppe ammunizioni Quando non sono Proprio necessarie Possono poi Incattivire la partita Giuseppe Stai riguardando Con un silent check L'azione Era da ammunizione No 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 Secondo me È una decisione eccessiva C'è stato un contrasto Deciso Ma non c'era cattiveria È una decisione eccessiva E come giustamente Ci suggerisce Mimmo Cosentino Che ha una conoscenza Del calcio Che va oltre Gli schemi E gli aspetti Semplicemente tecnici C'è da fare gli auguri A due giocatori Uno del Montepaone Uno del Badolato Che si sono sposati Si tratta di Pirritano E Leotta Mimmo Ma Non si sono sposati insieme Uno con l'uno E uno con l'altro Comunque tanti auguri A tutti e due Anche perché per sposarsi oggi Ci vuole coraggio E bisogna fare l'imbocca al lupo Ma loro lo stesso coraggio Che hanno in campo L'hanno dimostrato ieri Sposandosi Benissimo E chiaramente oggi però Non sono in campo Quindi hanno licenza matrimoniale Recupera il pallone Ancora Conidi Con Gianmarco Lombardi Libero aggiunto Lombardo Libero aggiunto All'altezza della tre quarti di campo Che smista il pallone Per Nania Che appunto lo appoggia Poi per Mellace Notiamo che sono invertiti Come posizione Sia Conidi Che Nania Vediamo se si tratta Di un fatto stabile O di un fatto momentaneo Ancora un rimbalzo Con Ienco Che però secondo Il signor Platico Mette fallo Però poi scarica Un bel destro Che va direttamente in porta Un gesto tecnico Importante Anche se In questo caso Inutile Perché l'arbitro Aveva già fischiato La fine Delle ostilità Per quanto riguarda Questa situazione di gioco E sarà ancora Audino A calciare la punizione Mentre tutto Il badolato In maniera compatta Si vede che c'è una mano Che organizza Questi giocatori Che poi è quella di Mister Calabrese Non c'era neanche da chiederselo Dicevamo Un badolato compatto Che si porta In avanti Con le linee Sia difensiva Che offensiva Ben delineate Sul rettangolo di gioco La palla si impenna Nania Colpisce di testa Recupera ancora Procopio Sono rimasti Per terra I giocatori Ed è Carnovale Che la mette fuori Per permettere All'arbitro Di chiamare in campo I sanitari Ove fosse necessario Visto che i due giocatori Si sono scontrati Però non dovrebbe essere Nulla di grave Si stanno Già rialzando Appunto Erano Cabba E Nania Che in elevazione Si sono scontrati Ed è presumibile Che Fiorentino Ora restituisca Il pallone Al Badolato Effettuando questa rimessa Che deriva appunto Da un pallone Ceduto Dal Badolato stesso E Doria Che recupera Lo restituisce Direttamente Ad Audino Tra gli applausi Del numeroso pubblico Presente Come al solito Totale sold out Nel primo anello Del Frabotto Mannis Ancora qualche Spazio libero Ma ben pochi Qui nel secondo anello Quello a ridosso Della tribuna stampa Sempre dell'impianto Di Monte Paone Che presenta oggi Un tappeto verde Più che accettabile Colpo di testa Di Carnovale Ancora una volta Si impenna il pallone Ma è Conidi Che rinvia Verso Procopio Pultrone lo anticipa Si combatte Con la baionetta Fra i denti E prendendo posizione Anche sulle palle altre Ancora elegantemente Cosentino Che si scontra con Doria La palla La palla poi finisce Rimessa laterale Secondo il signor Platì A favore del Monte Paone Ma poi cambia rapidamente idea All'altro braccio E la rimessa E del Badolato E ancora Cavallaro Che mette in mezzo il pallone Senza complimenti E senza fronzoli conidi E un attimo di ping pong Che vede ancora Carnovale Controllare molto bene Fermato da Mellace In maniera Si trattava di Matteo Carnovale In maniera ritenuta fallosa Da parte del signor Platì E quindi sarà probabilmente Lo stesso Cavallaro A calciare di sinistro Mentre si dispongono Almeno tre giocatori In fase offensiva Per il Badolato Con tutta la difesa Del Monte Paone Che pone la propria Maginò Sulla linea bianca Dell'area di rigore Che delimita l'area di rigore Fischia Platì Parte Cavallaro Parabola lunga Si impenna Colpo di testa di Cosentino E poi ancora Ienco Che sale più alto di tutti Ma con Asci Che recupera il pallone Si appoggia sull'ultimo giocatore Romeo La palla però viene ribattuta E torna ad Asci Che la controlla all'altezza E la linea del centrocampo Evita un avversario Tocca poi per Catanzariti A sua volta si difende E ancora si appoggia su Asci Dialogano bene i due Il numero sette vetrano Che recupera la sfera Ancora Asci Che allarga per Flavio Puzzini Pultrone che vede Cavallaro E probabilmente lo servirà di esterno Però parte con un attimo di ritardo Cavallaro Non riceve il pallone Riceve però un aspro rimprovero Da parte di Flavio Pultrone Che è un po' un altro dei giocatori Come dicevamo prima Simbolo di questo Badolato Una realtà importantissima Ricordiamo anche a Badolato C'è un'importante scuola calcio Anche a Badolato Si mastica e si vive di calcio Sette giorni su sette E ancora Gianmarco Lombardo Che riceve il pallone Lo scarica Nella zona di Inania Che è tornato appunto a sinistra Con Conidi Ora a destra E riceve palla da Domenico Voci E riparte tutto il Monte Paone Si danno il cambio Come posizione avanzata Del rombo di centrocampo Mellace E Domenico Voci Con Ienco Che mette il turbo Ruba palla Nei confronti del numero sei Catanzariti E la palla però finisce In rimessa laterale Anzi presumibilmente Punizione Anzi no rimessa Con le mani Effettuata da Raffaele Romeo Ancora un colpo di testa di Ienco Con Romeo Che ribatte Però in una zona Dove c'è Mellace Esce palla al piede Pultrone Si appoggia su Asci Che torna indietro Per toccare poi A Raffaele Romeo Il pallone Arriva finalmente a Cabba Che ha qualche Esitazione nel controllo Però poi riesce a evitare Canistrà Ancora Cabba Sulla fascia Recupera Vetrano Che si accentra E cambia Gioco per Cavallaro Si apre Tutto il badolato Con Cosentino Gli morde le caviglie Francesco Fiorentino Ma è ancora Pultrone Che appoggia per Asci Asci al centro A circa 30 metri Dalla porta Difesa da Lombardo Tocca ancora per Cosentino Molto elegante Anche nell'apertura Effettuata Nei confronti Di Di un proprio compagno Che però poi mette la palla Si trattava di Cabba Mette la palla In maniera innocua Tra le braccia Di Lombardo 24esimo minuto Montepaone 1 Badolato 0 Rete di Procopio Al decimo minuto A che punto è il tacquino Di Giuseppe Ranieri? Ma è un tacquino Basso ancora Perché a parte L'episodio del gol E qualche azione Giallo-verde Non c'è stato nulla Di così rilevante Oltre il primo quarto Di gara Negli ultimi due minuti Il badolato Ha fatto vedere Qualcosa Dei suoi colpi Ma non è stato nulla Di eccessivo Diciamo che sta cercando Di trovare il giusto guizzo Ma la manovra Non riesce a pungere Come dovrebbe Solo perché Il Montepaone Frappone Una coriacea difesa E cerca di salvare Il salvabile Per proiettarsi ancora Verso la vittoria E intanto Il lancio In favore di Cosentino Risulta eccessivamente lungo La palla si spegne Sulla pista D'atletica Del Frabotto Mannis Con Fiorentino Che si appresta Alla rimessa Con le mani Affidandosi poi A Conidi Conidi oggi Con eleganti Scarpette verdi Mentre ci sembrano Biancorosse Le scarpe Gli scarpini Appunto Di Nania Mentre invece Proprio per dovere Di cronaca Ienco Che ora ha ricevuto La palla Agli scarpini neri Come ai miei tempi Ecco ancora Che Gianmarco Lombardo Che partecipa All'impostazione del gioco Gli va incontro Mellace Ma Lombardo preferisce Il lancio in profondità Con Vetrano Che si frappone Rispetto a Ienco Che però gli ruba palla Solo superando La linea che delimita Appunto Il rettangolo di gioco E quindi Determinando una rimessa laterale Di competenza Di quel numero due Raffaele Romeo Che la scarica subito Su Asci Si gira il colore Del badolato Ma gli ruba palla Domenico Voci Subendo fallo Dall'altro numero undici Appunto Asci E quindi con una punizione Che sarà sicuramente Battuta dal piede destro Dal magico piede destro Di Mellace Con tutto il monte paone Che addirittura Con sei effettivi Forse anche sette Perché vediamo Muoversi anche in Ania Si porta a ridosso Dell'area di rigore Dei 16 metri Del badolato Addirittura Nania in questo momento È libero Perché il badolato Marca presumibilmente A zona Cercando di mettere In fuorigioco I giocatori del monte paone Parte la parabola Esce Audino Con sicurezza Recupera Il pallone Ienco Vogliamo sapere Un pronostico Anche da quel Pasquale Lentini Che ci ha seguito Silenziosamente Per tutte queste 15 giornate di sport Come finisce Il monte paone Badolato Pasquale Bene Per chi vince Sicuramente Non mi esprimo Ed è il nostro Cameraman Regista Che vi permette Di godere Queste immagini Insieme al signor Siciliano Appunto In sede di montaggio La palla intanto Si impenna Recupera Cannistra Che la protegge Col corpo L'appoggia Perienco Che supera Vatrano Ma non asci E poi appunto Il tocco Del numero 11 Del badolato Finisce in out Per una rimessa Laterale Del monte paone Che quando stiamo Entrando nel Ventottesimo minuto Di gioco Sta amministrando Con Sagacia Il vantaggio Conquistato in precedenza Tocco per Cannistra C'è la richiesta Di fuorigioco Però l'arbitro Lascia correre Quindi Deviazione In calcio d'angolo Sull'appoggio centrale Di Cannistra Giuseppe Era fuorigioco? Si si Era fuorigioco Era netto Quindi sia dal monitor Di servizio Che da quello Chiamiamolo VAR Si 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 Era netto E sarà a Mellace Con Domenico Voci Che gli si affianca Che si prepara appunto A effettuare La battuta Dalla bandierina Quella più lontana Rispetto alla tribuna Centrale Del Frabotto Mannis Parte la parabola Arquata Esce con sicurezza Saudino Che è la seconda uscita Che fa bene E Ienco Ripete Anzi Si trattava di Doria Ripete il tiro Precedentemente effettuato Da Ienco E anche in questo caso Il pallone Finisce lontano Dicono alcuni allenatori Che in questi casi Chi si trova Nella zona difensiva Quando la squadra Batte il calcio d'angolo E porta i lunghi In avanti Deve evitare poi I tocchi Che potrebbero permettere Un recupero E un contropiede Alla squadra Che difende Questa è una filosofia Di alcuni allenatori Cosentino Riesce a mantenere Il pallone in campo Ha di fronte a sé Due avversari Lì punta Si accentra Ancora con il destro elegante Evita anche Il ritorno di Domenico Voci Con Pultrone Ma con Doria Che si inserisce Nella trama offensiva Del Badolato E poi scambia Con Domenico Voci E con Francesco Fiorentino Fanno un po' di torello I giocatori del Montepaone Per pressati Però molto bene Dai Quelli del Badolato Con Doria Che alla fine Si allarga Verso Nania Che quindi può Reimpostare l'azione Chiaramente appoggiandosi Su Ienco Con tutto il Badolato Che si muove con ordine In questo momento Distinguiamo molto bene Nelle linee difensive Il 5 di difesa E i 3 di centrocampo Che costituiscono L'ossatura In fase di non possesso Scelta da mister Calabrese Apertura ancora larga Verso Fiorentino Che si accentra Mette in mezzo Per Procopio Che protegge il pallone Tira Risposta Doppia risposta Molto bravo Di Audino Con il tocco Che era stato Il tappin Di Domenico Voci Sul tiro di Procopio Però tutto molto bello Perché entrambi I giocatori Sia i due attaccatori Canti del Montepaone Sia il portiere Quindi non erano due Erano tre Del Badolato Hanno fatto dei gesti atletici E tecnici molto validi C'è Cabba Che viene fermato Con decisione Da parte di Conidi Decisione sanzionata Dal signor Platì di Catanzaro Gioacchino Platì di Catanzaro Che quindi permette Al Badolato Di ripartire E comunque In queste occasioni La squadra Ritenuta Meno favorita Dal pronostico Pur essendo Sull'1 a 0 Continua a macinare Il suo gioco Perché in sostanza 0 a 0 O 1 a 0 Non cambiano le cose Bisogna avere la pazienza Di cercare Di avanzare Col baricentro Portando Delle insidie In questo caso Alla difesa Del Montepaone Il pallone Rimbalza sull'erba E Domenico Voci Che lo controlla Evita molto bene Cavallaro Parte Marco Voci Domenico Voci Preferisce lo scambio Con Procopio E qui è Pultrone Che entra con decisione E forse c'è il fallo Sì giusta La segnalazione Del signor Platì Da parte di Mellace Che è entrato Col piede un po' Eccessivamente Alzato E che quindi Determina questa punizione In favore dei Giallorossi Badolatesi Il tocco ancora Per Cosentino Defilato sulla sinistra Ha di fronte a sé Un nugolo di avversari Ma riesce lo stesso A trovare Asci Che si accentra E tenta la fucilata Con un collo Che però Prende un giro Particolarmente esterno E quindi finisce Lontano dalla trasversale Della porta Difesa da Lombardo E mentre Giuseppe Ranieri Annota il tiro di Asci Possiamo anche dire Che si tratta Di un buon giocatore Questo numero 11 Del Badolato Beh sta dimostrando Di giocare Comunque avviso aperto A tutto campo Lo abbiamo visto prima In azione difensiva Riesce a proiettarsi Anche Abbiamo visto prima In azione difensiva Riesce a proiettarsi In azione Offensiva Ha il dribbling Riesce a puntare Ad andare al tiro Sembra comunque Un calciatore All'altezza Della categoria In grado di Districarsi Anche nei momenti Difficili della gara Vediamo che il Badolato Anche se questa gara Sta rispettando Quelle che erano Le aspettative Della vigilia Sta comunque recitando In pieno la sua parte Sta giocando Comunque Un buon calcio E cerca di trovare Lo spunto giusto Per Riacciuffare Il risultato Intanto è Procopio Che combatte Ma vede poi L'intervento di Catanzariti Parte Vetrano Si sovrappone Asci Che riceve palla Anche se è dovuto Andare sul settore Estremo destro Del campo Tocca ancora per Vetrano Che ha di fronte A Senania Che fa ottima guardia Evita anche il calcio D'angolo Con un tocco Che finisce poi In rimessa laterale E allora Andiamo a sentire I nostri amici Un giudizio tecnico Su questa partita Come stanno Giocando i giocatori Del Montepaone Molto bene Ma tu da difensore centrale Sei più come Conidi O più come Nania Nania Perfetto E il tuo compagno Quello che non vuole parlare Che in che ruolo gioca Chi lui Sì Gulla In che ruolo gioca Gulla in che ruolo Attaccante E quindi tu sei più Come Marco Voci O come Procopio Come Marco Voci E invece tu Portere Quindi come Gianmarco Lombardo Attenzione Perché Pultrone Mentre noi Che eravamo Con i nostri amici È arrivato E di destro L'ha messa Sopra la traversa Di pochissimo E quindi Ci siamo distratti Per parlare Vedi che nel calcio Bisogna stare sempre Concentrati I centrali Debbono stare sempre Concentrati Certo E allora Noi ringraziamo I nostri giovani amici Abbiamo visto Questa situazione Molto pericolosa Che dimostra Che il Badolato Quindi non ha paura Anche di avanzare Di attaccare E ha tutti i numeri Per poter risultare Pericolosissimo È vero Giuseppe Ranieri Noi siamo distratti Con dei giovani calciatori Lo avevamo detto Poco fa Il Badolato Sta recitando in pieno La sua parte Non demorde Cerca lo spunto giusto E come è successo Proprio poc'anzi Era quasi vicino Al pareggio È una squadra Che non ha più nulla Da chiedere A questo campionato Quindi può giocare Tranquillamente A viso aperto Per cui Cerca di trovare Quello che potrebbe Essere la giusta La giusta via Per Per cercare Almeno il gol Della maglia Il gol Che può dare Comunque ancora di più Calore Ad una stagione Nella quale Il Badolato È cresciuto Sin dall'inizio E oggi Si presenta qui A Montepaone Nella penultima Di campionato In maniera tranquilla Non ha più Nulla da chiedere A questo campionato Per cui può giocare La sua gara Senza Senza problemi Psicologicamente A briglia sciolta Quindi mentre intanto Me lasce Va a battere Un calcio d'angolo Conquistato da Ienco Movimento Di tutto il Montepaone Secondo uno schema consolidato Gran tiro Di Domenico Voci Anche qui Ci sono gli applausi La palla Finisce Lontana Dalla porta Di Audino Però il movimento Era a favorire Il tiro di chi Stava quasi fuori Dall'area di rigore E certamente Domenico Voci Non ha avuto Timore reverenziale A calciare di destro Anche se non è riuscito A centrare lo specchio Della porta E Audino Che intanto calcia Con i quattro difensori Del Montepaone Ma con Cannistra Soprattutto Che recupera Il pallone Me lasce Ancora Marco Voci Tutto di prima Con Carnovale Si tratta di Marco Che recupera palla Che poi schizza Laddove Tra Cabba E Me lasce Alla meglio Ancora Ienco Di fisico Asci Gli ruba palla La scarica Su Vetrano Che però poi Molto sportivamente Mette il pallone In rimessa laterale Per permettere Al giocatore Del Montepaone Di rialzarsi E quindi Di riprendere A giocare E di riprendere In maniera Che ci fosse Parietà numerica Tra le due squadre E ancora Procopio Che restituisce Poi ad Audino Quando siamo giunti Al trentaseiesimo minuto Di gioco Della prima frazione Qui tra Real Montepaone E Badolato Mantenendo il vantaggio La squadra di casa Real Montepaone Di 1 a 0 Siglato da Salvatore Procopio Al decimo minuto Del primo tempo Colpo di testa Di Cabba Che va in profondità Dove c'è Lombardo Che comunque Recupera Il pallone Con questo gol Salvatore Procopio Arrivato a 14 Segnature In questa stagione Con Marco Voci Che ne ha 19 Domenico Voci 7 Canistra 4 E poi numerosi Giocatori Con due O una rete Per dire di un Montepaone Insomma Che va a segno Sì con le sue Punte di diamante Procopio e Voci Però anche con il resto Della squadra Che è stata importantissima Per alcune segnature Nei momenti topici E la stagione E Canistra Che tocca per un defilato Mellace Che gli restituisce la palla Con Cabba Che lo va a disturbare Finalmente recupera Doria Allarga per Fiorentino Che riceve Mette in mezzo Un pallone delizioso E anche qui Molto bravo In uscita Audino In queste categorie È difficile trovare Un portiere Che faccia bene Anche Anche le uscite E noi chiediamo A Mimmo Cosentino È vero Che un portiere Che esca bene In prima categoria In promozione È merce rara? È vero Anche perché Di portieri buoni Adesso ce ne sono pochi Diciamo che È un ruolo È un ruolo Che sta andando in estinzione Sia quello Dell'attaccante Vero Puro Sia quello Quello del portiere Comunque questo Portiere che sto vedendo Oggi Del badalato Sta facendo belle cose Sta dimostrando Di essere un bravo portiere E noi siamo d'accordo Con Mimmo Cosentino Con ancora Procopio Il Mandzukic Del Montepone Che mette in mezzo Per Canistra Sicura l'uscita Di Audino Che fa subito Ripartire Asci Sfruttando una zona Del campo In questo momento Non presidiata Ma solo per un attimo Dai giocatori del Montepone Cabba riceve la palla Tocca per Vetrano Controlla Si accentra Poi di destro Cerca di dialogare con Cabba Non si capiscono i due Ed è Gianmarco Lombardo Che recupera Il pallone Senza neanche toccarlo Con le mani Giocandolo soltanto Con i piedi E scaricandolo poi Su Conidi Che si affida subito Mettendo il pallone In cassaforte Ai piedi di Mellace Domenico Voci Mellace e Nania Si ragiona con calma Mentre tutto il Montepone Come una fisarmonica Si porta in avanti In maniera organica E ordinata Cannistrà Che è andato a recuperare La posizione di Mellace E di Domenico Voci Che avevano fatto Dei passi in avanti E poi il tocco È per Procopio Che è quello che poi Ci mette la grinta E la lotta Spalle alla porta E ancora un lancio di Doria Questa volta In preciso Con Marco Voci Che si trovava Come ci sta dicendo Giuseppe Ranieri In fuorigioco Ma come ha detto In una dichiarazione Qualche allenatore È facile Quando uno ha due televisori Una comoda sedia Vedere tutte le azioni Eh sì sicuramente Però Vabbè Noi la vediamo da sopra Quindi riusciamo A A scrutare Ogni minimo aspetto Della posizione in campo È chiaro però Che da un punto di vista Anche Tecnico Il calciatore Sicuramente Avrà provato Avrà fatto quello Che ha provato In allenamento Per tutta la settimana Però Marco Voci Era comunque in offside E intanto La palla finisce ancora In rimessa laterale Questa volta però In favore del Badolato E quindi da questo lato Del campo All'altezza della panchina Di mister Pisano La competenza territoriale Sicuramente di Cavallaro Che si avvia A effettuare la rimessa In gioco Proprio con le mani Elegante stop di Cosentino Chiuso dal raddoppio Di marcatura Del Montepaone Con Mellace Che poi si appoggia A Nania Che alza la testa Controlla E poi scarica Su Conidi Che permette Anche a Gianmarco Lombardo Di dire la sua In questo fraseggio Iniziale Dell'azione Che il Montepaone Porta un po' Come suo marchio Di fabbrica Così come vuole Mister Pisano Mister Pisano E mister Calabrese Che anche un po' Fuori dalle proprie Aree tecniche Di competenza Stanno comunque Dando indicazioni Ai giocatori Sfruttando appunto Ogni occasione Per questa che in fondo È tra di loro Una vera e propria partita A scacchi E intanto è Il numero 13 Nania che avanza Scarica su Ienco Di fronte a Sevetrano Se ne va Parte col motorino Ienco Arriva quasi sul fondo Mette in mezzo Catanzariti Chiude la diagonale E mette la palla In rimessa Anzi in calcio d'angolo Con il Montepaone Che vede subito Mellasce E Domenico Voci Avvicinarsi Alla bandierina Per poter poi Valutare Che tipo di schema Applicare Sarà forse Il 54 Bis O il 13 Barrato Questo lo scopriremo Solo tra poco Mellasce Che si prepara Appunto A toccare Per Marco Voci Che appoggia Per Domenico Voci Che supera un avversario E supera un altro Domenico Voci Di sinistro Va a fare La barba Al palo Dopo essere arrivato Praticamente Quasi all'interno Della porta In questo caso Audino Non avrebbe potuto Far nulla Ma La palla È scivolata Di pochissimo Fuori dai pali Della porta Del portiere Del Badolato Ma certamente Lo schema E soprattutto La progressione In dribbling Di Domenico Voci Ora che siamo Al 41esimo 18 secondi Una manciata Di decimi È stata Un'azione Veramente Importante Carnovale Scarica Per Catanzariti Che chiama In causa Audino Pressato Da Procopio E da Marco Voci Audino Si disimpegna In maniera elegante Appoggia Per Pultrone Che poi calcia Con decisione Oltre la metà campo Conidi Colpisce I testa Vetrano Ruba palla Ma a sua volta Viene anticipato Da Conidi Mellace Parte Marco Voci Non era in fuorigioco In questo caso C'era Pultrone Che lo teneva Presumibilmente In gioco Ma in questi casi Non mi sbilancio Chiedo All'occhio magnetico Di Giuseppe Ranieri No Non era in fuorigioco Comunque L'arbitro Non si trovava In condizione tale Da poter Decidere Chiaramente Era tenuto in gioco Marco Voci Da Pultrone Che si trovava Circa due metri Più avanti Per cui È una decisione Che l'arbitro Ha preso così In via del tutto Approssimativa Infatti Il nostro computer Segnala Come dice Giuseppe Ranieri Un metro e novantadue Di spazio Che teneva in gioco Appunto Il giocatore Il Montepaone Cavallaro Riceve la palla La scambia con Cosentino Che ancora elegantemente Si appoggia per Catanzariti Alza la testa Mette in mezzo Ma svetta Con decisione Nania Anche se il badolato Continua a premere Con Romeo Che recupera palla Ienco Marcovoci Con un tiro Dai 20 metri Che finisce alto Sulla trasversale Della porta difesa Da Audino 43esimo minuto Ancora calcio Spumeggiante Spettacolare Da parte di entrambe Le squadre Risultato che Vede prevalere Per una rete a zero Il Real Montepaone Audino calcia lontano Cagnistrà Colpisce di testa Probabilmente C'era una spinta Ma l'arbitro Lascia correre Con Carnovale E Fiorentino Che fanno valere Entrambi il fisico Carnovale Da terra Si tratta di Matteo Ritiene di aver subito fallo Ma l'arbitro Fa giocare E poi il pallone Finisce nella zona Di competenza Di Catanzariti Che poi calcia subito Per Asci In questo momento Il signor Platista Un po' arbitrando All'inglese Il tocco ancora Per Procopio Marco Voci Parte in velocità Evita Pultrone Viene strattonato E in questo caso C'è fallo Da ultimo uomo Da parte di Pultrone Attenzione Potrebbe essere Una svolta Probabilmente Il rigore Fallo da ultimo uomo Con Platiche Espelle Pultrone Che praticamente Ha strattonato Marco Voci E assegna Quindi Il rigore Con una decisione Probabilmente Ineccepibile Dal punto di vista Tecnico Anche se il fallo Di Pultrone E' stata E' stata Una trattenuta Una trattenuta Su Marco Voci Che era riuscito Partendo in Posizione regolare Era riuscito A arrivare Quasi a tu per tu Con il portiere E quindi Al quarantaquattresimo Minuto di gioco Sarà Marco Voci A calciare Questa massima Punizione Pultrone Pultrone Chiaramente Pultrone Chiaramente Non è D'accordo Con questa decisione E Marco Voci Si prepara A calciare Dal dischetto Degli undici metri Contro Audino Marco Voci E Audino Due giocatori Importanti L'uno contro L'altro Saltello di Marco Voci Un passo Due passi Parte Marco Voci Tiro Gol Marco Voci Con sicurezza Al quarantacinquesimo Del primo tempo Determina L'entusiasmo Da parte Di tutti i tifosi E soprattutto Anche dei raccattapalle Che partono poi Per il campo Di allenamento Gli esordienti E dei giovanissimi E il Montepaone Quindi passa Sul due a zero Con un gol Al quarantacinquesimo E con l'arbitro Che ha alzato il braccio Segnalando Il minuto Forse uno O due minuti Di recupero E a questo punto Dovevamo chiedere Al portiere Era imparabile Questo rigore Di Marco Voci Tu ci staresti Arrivato Nell'angolino No E quindi Marco Voci Segna sempre Sì Sei contento Due a zero Per il Montepaone Sì Benissimo Ti ringraziamo Anche per la sinteticità Ecco che riparte Ancora il Badolato A questo punto Due a zero Sicuramente Uno score Difficile Però ecco Che il Montepaone Ha colpito In maniera Attenta Appunto Mettendo a frutto Il proprio gioco E riuscendo a mettere Marco Voci Solo davanti al portiere Quasi costringendo Pultrone A effettuare il fallo Ma non è domo Il Badolato E c'è un fallo Di Ienco Su Cabba Un'entrata Decisa di spalla E quindi si riprenderà Con una punizione Interessante In questo caso Per un Badolato Che ha già dimostrato Di avere parecchi schemi Nella propria Faretra Nel caso appunto Di poter utilizzare Delle palle Inattive Viene posizionato Il pallone Da parte di Carnovale Scendono tutti I lunghi Del Badolato Con il Montepaone Che marca A zona Vediamo Carnovale Che si prepara A calciare C'è Cosentino C'è Asci C'è anche Cabba Vediamo Partirà di destro Presumibilmente Carnovale Parte la parabola Cavalunga Cavallaro Tiro Cavallaro Ribatte Conidi Il tiro Quasi a botta sicura Anche se dietro C'era Lombardo Che stava facendo Buona guardia Con Romeo Che protegge La situazione E con l'altro Carnovale Che mette il pallone In mezzo Ma riparte ancora Procopio Tocca per Mellace Ma l'arbitro decide Di mandare tutti Negli spogliatoi A riposarsi Oggi con la temperatura Attuale Un tè caldo Non è consigliabile Ma sicuramente Tutti noi possiamo Fare una sosta al bar Per rifocillarci In attesa di godere Insieme a voi Del secondo tempo Della partita Real Montepaone Badolato Ricevitoria Gerace A Montepaone Ripo Da noi puoi giocare Super Era 8 Totogol Totocalcio Trist giornaliere E Win4Life Ogni ora Agenzia autorizzata Per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche Pagamento bollette Dal 1975 75 al tuo servizio Ed in attesa Della tua giocata Vincente Puoi consumare Un gustoso aperitivo Nell'annesso bar Ricevitoria Gerace Vi aspettiamo In via Padre Pio A Montepaone L'Indo Su di noi Puoi scommetterci Gentili te e spettatori Benvenuti Per gustare Insieme a noi Di S1 TV Il secondo tempo Della partita Real Montepaone Badolato La prima frazione Di gioco Si è conclusa Sul risultato Di 2 a 0 In favore del Montepaone Con rete Al decimo Di Salvatore Procopio E al 45esimo Sul rigore Di Marco Voci Lo specifico Il ventesimo gol In stagione Del bomber Del Montepaone Sono rientrate Le due squadre I rossi del Badolato I neri Del Montepaone Vediamo che L'arbitro Il signor Platì Sta per dare Il via Alle danze Appena fischiato E notiamo Che il Montepaone Ha effettuato Durante intervallo Una sostituzione E' entrato Il numero 22 Benito Mungo Ed è uscito Il numero 7 Doria Ricordiamo Che per l'espulsione In occasione Del calcio di rigore Di Flavio Pultrone Il Badolato Ora si trova A dover affrontare Il secondo tempo In 10 Quindi con L'inferiorità Numerica Espulsione decretata Per farlo Da ultimo uomo In occasione Appunto del rigore Poi siglato Da Marco Voci E allora Noi siamo qui Con l'esterna 65 di S1 TV Antonio Siciliano Pasquale Lentini Maurizio Vatrano Giuseppe Ranieri E la voce Giorgio De Filippis E proprio A Giuseppe Ranieri Chiediamo L'ingresso di Mungo Cosa cambia Cambia dal punto di vista Tattico e tecnico Non credo Vada a cambiare molto Da un punto di vista Tecnico Sul 2 a 0 Alla fine del primo Tempo mister Pisano Ha preferito Probabilmente far riposare Doria in vista Dell'ultima gara In quella di Mileto Il Badolato Comunque si trova In inferiorità Numerica Con un uomo in meno Deve cercare di Aprirsi un po' di più Per quanto meno Riuscire a fare Almeno un gol Per cui il Montepone Potrebbe anche Giovarne Per cercare Di allungare Copiosamente E quindi Questa è l'opinione Del nostro Opinionista Principe Giuseppe Ranieri E invece a Maurizio Vatrano Andiamo a chiedere Mister Pisano Sta facendo scaldare Tutta la panchina Per punirli O per tenerli Sulla corda Penso più Per la seconda ragione Ma è Del suo consertudine Comunque Questo Questo modo di fare Diciamo E infatti Sta facendo segnalazione La panchina Che anche Maurizio Vatrano Deve scaldarsi Comunque Quello 20 anni fa Magari era possibile Oggigiorno Non più Grazie Maurizio Noi torniamo appunto In postazione Quando siamo entrati Nel secondo Minuto di gioco Con Cosentino Maidomo Che c'è Che punta Un paio di avversari Cerca il tiro Che si infrange Sulla schiena Del numero 13 Nania E quindi L'arbitro Però il signor Platì Di Catanzaro Ravvissa gli estremi Di un fallo di mano Concedendo al Badolato Una punizione interessante All'altezza Dei 18 metri Dei 15 metri Diciamo così Dalla porta difesa Da Lombardo E quindi dovrebbe essere Cosentino Che ci sembra Più talentuoso Della squadra Di mister Calabrese Ma anche Cabba E sul pallone E anche Matteo Carnovale Quindi ci saranno Più opzioni Con il signor Platì Che fa disporre La barriera In questo caso Ha chiesto tre elementi Anzi quattro Gianmarco Lombardo Che diventano poi cinque Quindi sta coprendo Un po' La propria visuale E vediamo chi calcerà Perché sulle palle inattive Sinora il Badolato Ha dimostrato Di avere delle ottime Caratteristiche Parte Cabba Finta E poi Finta ancora Carnovale Triplice Tiro sulla barriera Da parte di Cosentino Era un bello schema Che praticamente Doveva impedire A Lombardo Di vedere La partenza E la palla Però la barriera Posizionata bene Però Attenzione Perché la palla La scivola In una zona Dove è presidiata Da Conidi Con Vetrano Che poi conquista Una rimessa laterale Opponendosi A Fiorentino Sarà Cavallaro Effettuare questa Rimessa laterale Con Cosentino Che ancora Chiede e riceve Palla Cerca la Veronica Poi passa Cavallaro Che mette in mezzo Un buon pallone Per però Senza prendere Le giuste misure E quindi facendo Finire la sfera Cuoiata Al di là Della linea Di fondo E quindi con rimessa Affidata A Gianmarco Lombardo Che scarica subito Su Nania Che ritrova Al centro Della difesa Mellace Che apre Per Domenico Voci E tutto il Montepaone Come un orologio svizzero Incomincia a muoversi In sincrono Tocco per Cannistrà Riceve palla Va a pressarlo Carnovale Si tratta di Marco Ma viene aperto Il fronte di gioco Di nuovo sulla sinistra Per Nania Che addirittura A fianco a sé A Marco Voci In ripiegamento difensivo Proprio per andare A passare la palla A Gianmarco Lombardo Riceve ancora Conidi Cannistrà Arretrato in questo frangente Fa filtrare il pallone Procopio Ma ci pensa Catanzariti Ad opporsi E a mettere la palla In rimessa laterale E ancora Cannistrà Che appoggia In profondità Dove però Catanzariti Fa buona guardia Evita elegantemente Procopio E appoggia Per il numero 3 Cavallaro Che ha di fronte a sé Cannistrà Cerca il lancio Verso Carnovale Ma di fisico E di potenza Chiude ogni spazio Conidi Impedendo all'avversario Di raggiungere il pallone E scambiando poi Quest'ultimo Con Gianmarco Lombardo E poi con Mellace E riprendendo appunto Il fraseggio ragionato Da parte del Montepaone Interrotto dal pressing Di Cosentino Che poi commette fallo E chiede anche scusa Su Domenico Voci Però vediamo Che Cosentino E quello E la squadra Del Badolato Che più si sta impegnando Per cercare Di dare una svolta A una partita Che sul 2-0 E con l'inferiorità numerica Potrebbe quasi Ritenersi chiusa Ma nel calcio Il quasi Non si usa mai Ecco che Conidi Non si intende Con Fiorentino La palla finisce In rimessa laterale Con Cavallaro Che effettuerà La stessa 5 minuti 31 secondi Badolato 0 Montepaone 2 In casa chiaramente Del Montepaone E Vetrano Che cerca di saltare Un paio di avversari Viene chiuso Con un raddoppio Ritenuto falloso Da parte del signor Platì E quindi con Cavallaro Che calcia Una punizione interessante Al ridosso Della linea Di metà campo Nella parte Di campo appunto Dove il Montepaone Gioca in difesa Apertura verso Marco Voci Con Carnovale Che non riesce A controllare la palla E la mette E la mette In out Vediamo Mimmo Cosentino Che sta facendo Commenti tecnici Facci partecipi Mimmo Di cosa stai parlando Stiamo parlando Dei risultati Della Serie A D E Rocella Che ha pareggiato In casa Con la Nocerina Fermando ancora La Nocerina E Sta facendolo Distaccare ancora Dalla coppia Troina Vibonesse Mi dai una notizia Che mi spezza il cuore Sapere che la Nocerina Non ottiene risultati Ma bisogna pur farsi Una ragione E magari sarà Per la prossima volta Perché la Nocerina In Serie D Fa già la sua bella figura Ecco che intanto C'è una punizione Che sarà battuta Da Catanzariti Che però Richiede ai compagni Di spostarsi Allargare appunto Il fronte di gioco Ma poi gli viene consigliato Di toccare corto Per Romeo Lui non lo fa E lancia in profondità Verso Cosentino Colpo di testa A chiudere di Ienco Il pallone Poi finisce a Cannistra Messo giù Da Carnovale Si trattava di Matteo E quindi punizione In favore del Montepaone Che riprende subito A giocare Con Mellace E Domenico Voci Che danno spazio E respiro All'azione Dei giocatori Dei atleti Di mister Pisano Fiorentino Domenico Voci Tocchi proprio A liberare Lo spazio Per poter poi Iniziare la manovra Cosentino però Capisce tutto E serve Romeo Riparte ancora il Badolato Con Carnovale Cabba che di fisico Non regge l'urto Di Conidi E ancora una volta La difesa del Montepaone In questo caso Con Fiorentino Alla meglio E si affida a Mellace Per aprire il fronte di gioco Nei confronti di Nania Che pressato da Cosentino Perde palla Cosentino però Viene triplicato subito Per quanto riguarda La marcatura Con Ienco E Nania Che controllano la sfera E dialogano ancora A questo punto Il Montepaone Non ha più grosso interesse A forzare i tempi Il Badolato Sicuramente Anche per il caldo Che oggi ci avvolge Ricordiamo Che sta iniziando Predichetto Una sorta di stagione estiva Anticipata Qui E siamo Ancora in aprile E appunto Diciamo Il Montepaone Non ha interesse A forzare Più di tanto Giuseppe Ranieri Quando andiamo a mare Mi chiami? Eh sì E se ci tieni Ti chiamerò Tranquillo Perché qui Il Prato Verde Del Frabotto Manis Si sposa Con l'azzurro Del mare Sullo sfondo Una visione romantica Ma anche estiva Cosa fai In quella Nella prossima estate Quali sport Seguirai? Ma non lo so Attenderò Quelli che saranno Gli eventi sportivi Qui sul Soveratese Sia di Podismo Che Di qualsiasi Altro sport La Gazzetta Ritenga Di Seguire Non seguirà Il Mondiale Ecco Ci chiede Mimbo Cosettino Se seguirà Il Mondiale Tu seguirai Il Mondiale Per il Quotidiano Del Sud Mimbo Io seguirò Il Mondiale Ecco perché L'ho chiesto Al collega Ranieri Noi ci prepariamo A leggere Quelle che sono Due prime firme E della Gazzetta Del Sud Per quanto riguarda Giuseppe Ranieri E del Quotidiano Del Sud Per quanto riguarda Mimbo Cosentino Qualunque cosa Loro scrivano Per noi È un piacere Leggerli Intanto Nania riceve Il pallone Pressato da Carnovale Si libera Toccando per Gianmarco Lombardo Entriamo nel decimo Minuto di gioco Della seconda frazione E quindi potremmo Anche parlare Di cinquantacinquesimo Con Procopio Che riceve Da Domenico Vosci Tocco per Marco Voci Tutto di prima Lancio per Cannistrà Che cerca di superare La guardia di Carnovale Appoggia per Ienco Ma c'è un Carnovale Indemoniato Tocco di mano Di Cosentino Ma nettamente Involontario Anche se era Lontano dal corpo Il braccio E tocco ancora Tra Cannistrà E Ienco Con Cosentino Che sembra una furia Si sta battendo Veramente alla grande Finisce a terra E ci sarà una posizione Per il Badolato Giuseppe Il braccio era Lontano dal corpo Però il giocatore Era girato di spalle Sì ma è fallo È fallo Tu poi l'hai visto bene Al monitor Sì E comunque anche qui In tribuna stampa E dintorni Si parla appunto Di fallo Però l'arbitro In questo caso Non ha ravvisato Gli estremi E come diceva A Boscov Fallo è Quando arbitro Fischia Si tratta ora Di Matteo Carnovale Che si aggiusta Appunto la sfera Sull'erba Del Frabotto Mannis Per calciarla Poi in direzione Del compagno Di squadra Che gli restituisce Appunto La stessa sfera E poi Carnovale Rilancia In una zona Presidiata Da Francesco Fiorentino Che tocca Per Domenico Voci Movimento di Cannistrà Si preferisce Toccare a Marco Voci Ancora per Mellace Ienco E si ricomincia Il fraseggio Con Nania E con ancora Mellace Tutto il Montepaone Si muove Cercando di allargare Il fronte di gioco E poi serve però Mellace Che riesca a mettere Il pallone Quei 40 metri lontani Come solo lui sa fare Ecco che riceve palla All'altezza del metà campo Cannistrà Se la va a prendere La difende Tocca per Domenico Voci Si inserisce Mungo Ma poi l'apertura È a favorire Francesco Fiorentino Ha di fronte a sé Vetrano Si accentra Un po' alla Douglas Costa Tocca per Mellace Apertura deliziosa Nei confronti di Ienco Ha di fronte a sé Cosentino Si porta la palla sul destro Lo dribbla Mette in mezzo E Asci Fa rimbalzare il pallone Ma ancora Mungo Anzi preferisce Conquistare il calcio d'angolo Invece che gestire Un pallone Che magari sarebbe Stato da crossare Ma con qualche difficoltà Calcio d'angolo Consueto schema Fiorentino Domenico Voci E Mellace Il trittico di giocatori Chiamati in causa Quando la squadra Di mister Pisano Si prepara A calciare Dalla bandierina Vediamo che Mellace Però probabilmente Metterà direttamente al centro Svetta Carnovale Riceve Cabba Che poi è pressato Da due giocatori Ma riesce lo stesso A servire Romeo Gli ruba palla Domenico Voci Allarga il fronte del gioco Aprendo sulla destra Per Conidi Sovrapposizione di Mungo Viene premiato il suo sforzo Atletico Riceve palla Di fronte a Sevetrano Che lo punta Senza però Dargli molto spazio Palla in mezzo E Romeo Che la ribatte Che però C'è un pallone Che si impenna All'altezza Dell'area di rigore Ancora la palla Messa al centro Da Mungo Ma senza problemi Per Audino Che nonostante Abbia subito due gol Fino a questo punto Si è dimostrato Un ottimo portiere 12esimo e 21 secondi Montepaone 2 Badolato 0 Si riprende con Vetrano Che conquista Una rimessa laterale Con Mister Pisano Che però chiama un cambio Vediamo di chi si tratta Entra Paparazzo E presumibilmente Dovrebbe uscire Cannistrà Quindi Paparazzo Si tratta del giocatore Dell'80 Del 90 Vediamo un attimo Paparazzo del 91 Dovrebbe essere Che sostituisce Sostituisce Cannistrà Andiamo a verificare Sì Il numero 19 Antonio Paparazzo Dell'89 Quindi è lui Che entra Un altro giocatore D'esperienza Che va appunto A gestire La situazione A centro campo Bene così Come ha fatto Cannistrà Che in questo momento Gli scede il posto Quindi avvia Il turnover Mister Pisano E ancora Cabba Che riceve Palla Ma conidi Che anticipa Il ritorno Di Marco Carnovale E rinvia Poi il pallone Ancora Vetrano Mette la palla In mezzo Senza problemi L'intervento Di Gianmarco Lombardo Che poi Scarica in direzione Di Marco Voci Anticipato da Matteo Carnovale Con un colpo di testa Che fa finire la sfera In out E quindi si riprenderà Come rimessa laterale Il compito Della quale Se lo assume Rocco Ienco Che si prepara Appunto Ad andare a battere Notiamo I nostri amici Giocatori del Monte Paone Che stanno ridendo Ma state ridendo Perché state divertendo O vi state concentrando Sulla partita Ridendo E per quale motivo Stiamo Non abbiamo la possibilità Di 2-0 Contro Sì Possiamo Possiamo dire Che comunque Sia Cosentino Che Asci Stanno cercando A tutti i costi Il gol Della bandiera Possiamo dire La difesa Però gialloverde È comunque Sempre attenta Finora Non si è mai fatta Sorprendere E il Monte Paone Che comunque Sta amministrando Con saggezza Il gioco Con una manovra Per lo più attendista Visto il risultato Di 2-0 A meno che Il Badolato Non trovi Uno spunto Maggiore Non penso Che la partita Possa avere Una svolta diversa Grazie Giuseppe Anche se noi Non vogliamo Anticipazioni Rispetto all'indicazione Dei migliori giocatori Che poi saranno premiati Dai nostri telespettatori Tramite il tasto Fucsia Del telecomando Però sicuramente Il Badolato Sta giocando In inferiorità numerica Con grande cuore Sicuramente Mister Calabrese Negli spogliatroi Avrà detto ai suoi Ragazzi Si gioca a pallone Come quando giocavo io Coltello fra i denti E tanta volontà Apertura Che però Favorisce ancora Il tocco Per Cosentino Arriva Marco Voci Cosentino lo evita Punta un avversario Cerca di entrare In aria Mette la palla in mezzo Conquista Dopo l'intervento di Ienco Un buon calcio d'angolo E quindi calcio Piazzato dalla bandierina Per il Badolato Quando siamo giunti Al quindicesimo minuto E quaranta secondi Di gioco Con Cabba Che si appresta a battere Appunto dalla bandierina Probabilmente di destro Quindi una parabola A uscire Con tutto il Badolato Praticamente All'interno dell'area di rigore Il Montepone A marcare a zona Arriva il pallone Colpo di testa Di Marco Voci Che con sicurezza Spazza in una zona Presidiata da Marco Carnovale Che subito Imposta un altro Traversone Che però è preda Di Mellace Marco Voci Apertura per Benito Mungo Si trova un attimo Spiazzato Tutta la difesa Del Badolato Grande ritorno di Romeo Mungo evita Romeo Entra in aria Si accentra Tiro in due tempi Audino Riesce a bloccare Anche se probabilmente Stavano arrivando I due Voci Domenico e Marco Ma a quel punto Mungo dopo aver corso Per circa 30 metri Forse anche 40 Voleva concludere In bellezza Con un tiro Che però ha trovato pronto La risposta Audino E ancora Conidi Che scambia Con Paparazzo Che riceve poi la palla Alza la testa E scambia ancora Con Procopio Finisce ancora Conidi Che preferisce Far rifiatare Un attimo i suoi Appoggiandosi Su Mellace Va a riprendere La palla Paparazzo Intanto il Badolato Si è schierato Ora è un tipico 4-4-1 Da parte Del Badolato Considerando Appunto L'assenza di Pultrone Che è stato espulso Fiorentino Cerca di crossare Vetrano Gli dice no E quindi Se ne riparla Con la rimessa laterale In favore Della squadra Del Montepaone Il tocco è per Domenico Voci Se ne è in possessa E la palla Vetrano Che cerca di puntare L'avversario Se ne va Probabilmente Toccato da Domenico Voci E quindi giusta La segnalazione Del signor Gioacchino Platì Di Catanzaro E quindi punizione In favore del Badolato Con Catanzariti Che è in posta Appoggiandosi poi Su Raffaele Romeo Che evita Un avversario Tocca per Cosentino Anticipato Da Ienco Carnovale Si tratta chiaramente Di Matteo Che protegge il pallone A su di sé Due avversari Cerca di andarsene Subisce fallo Da parte di Paparazzo Giusta la segnalazione Dell'arbitro Che assegna Una punizione All'altezza Della linea Di mediana Del centrocampo In zona d'attacco Del Badolato Ancora Carnovale Che protegge la palla Dall'intervento Prima di Ienco E poi di Procopio Si appoggia Sul Romeo Che di destro Cerca di favorire Cosentino Che se ne va In velocità Probabilmente Leggera Ed esperta Trattenuta Da parte di Ienco E la palla Finisce Sul fondo Giuseppe Mister Pisano Però è concentratissimo Guarda l'orologio E non vuole Che i suoi Allentino la concentrazione E la tensione mentale Sì vabbè Noi conosciamo bene Alessandro Pisano Come un uomo Di spogliatoio Molto attento E chiaramente Lui guarda anche L'orologio Perché Vede scorrere il tempo E cerca comunque Di capire Se può far Riposare ancora Qualcun altro Anche per vedere Se il Badolato Riesce In inferiorità numerica A trovare profondità Per cui comunque Sempre attento Vista l'importanza Di questa gara Che comunque Non lasciava nulla Di scontato Prima della partita È vero che Il punteggio Può in qualche modo Rispecchiare Quelle che Potevano essere Le aspettative Della vigilia Però abbiamo visto Comunque un buon Badolato Che seppur In inferiorità numerica Sembra Tenere bene Il rettangolo Di gioco Ed esercita Anche una buona Azione difensiva Intanto Ienco Ha messo in mezzo Un pallone Intercettato La difesa Il Badolato E ancora Cosentino Che stoppa Parte in velocità Cerca di risucchiare Tutta la difesa Del Monte Paone Si ferma Di fronte a Semellace Non si passa Anche se Cosentino Poi in un corpo A corpo con Ienco Cerca di recuperare La posizione Ancora Paparazzo Per Mellace Autore di un recupero Veramente importante Anche dal punto Di vista fisico Perché Ha corso in diagonale Cercando di chiudere Ogni spazio A Cosentino E la palla Intanto finisce A Francesco Fiorentino Che la scambia Con Conidi Che la dà a sua volta A Domenico Voci Ancora Paparazzo Controllo sull'erba Abbastanza agevole E apertura Ancora una volta Per Mellace Che dal tre quarti campo Zona difensiva Del Monte Paone Imposta l'ennesima azione Con calma E razziocinio Appoggiandosi a Nania E ancora Mellace Il destro Che pettina la palla E poi favorisce Conidi Che riceve il pallone Pressato da Vetrano Quindi il Badolato Si ha pure il ripiegamento Non rinuncia Al pressing Per quanto riguarda L'interruzione Dell'azione offensiva Del Monte Paone Con Carnovale E si tratta di Marco Che recupera la palla La scambia con Vatrano Che si appoggia poi All'indietro Su Catanzariti Che alza la testa Avanza E poi scarica In direzione di Cosentino Che fa passare il pallone Per Matteo Carnovale Che evita il ritorno Di Ienco Tutto il Badolato Elegantemente Si sta portando in avanti L'altro Carnovale Marco Mette la palla in mezzo Ma viene respinta Dalla difesa Del Monte Paone Ancora Cavallaro Che controlla Cerca Vetrano Che evita L'intervento Di un avversario Si defila sulla sinistra Ha di fronte a sé Conidi Di destro poi Favorisce Cavallaro Che ancora si accentra Scarica per Cosentino Che forse Riceve la palla Troppo sul piede destro Ancora Cabba Conidi Non si passa In scivolata L'arbitro ci mette del suo Rimbalza il pallone Su di lui Vetrano Cerca il colpo Da biliardo E la palla finisce In rimessa dal fondo Però è un badolato Maidomo Un badolato Che pur in inferiorità numerica Sta cercando di portare Il pallone In attacco Mentre vediamo che Mister Pisano Fa entrare anche L'altro paparazzo E in questo caso Esce con una Standing ovation Salvatore Procopio Il Mandzukic Del Monte Paone Che permette appunto A paparazzo Classe 91 Di entrare in campo E salutiamo Questo giocatore Che con la rete di oggi Non solo ha sbloccato Il risultato E non era facile Ma come avevamo detto In precedenza È giunto a 14 segnature Personali Il che unito Alle 20 Di Marco Voci Fa sì che Il Monte Paone Abbia un attacco Da 34 gol E non è poco In prima categoria Ancora una volta Paparazzo Si tratta di paparazzo Lo chiameremo L'anziano O il diversamente giovane Per quale distinguono Dall'altro paparazzo Classe 91 E ancora Mellace Che aspetta Il ritorno Di Domenico Voci Per scambiare E passare poi A Nania Mentre tutti i giocatori Del Monte Paone Si muovono Per dettare il passaggio Rubata la palla Da parte di Catanzariti Che lancia Cabba Ma è prestigioso Il ritorno di Conidi Ottima la diagonale Va a chiudere Su Cabba E mette la palla In calcio di fondo Però ha dato Un'accelerazione Conidi Veramente importante Giuseppe Una bella accelerazione Il difensore Deve sapere anche Avere un'ottima posizione Beh ma Conidi Ci ha abituato Per tutto l'arco Del campionato A recuperi importanti E' un uomo Di categoria Anche superiore Che riesce Ad esprimersi Sempre con dovizia Di particolari Nella sua area di rigore Parte il Corder di Cosentino Non raggiunge Il pallone Lombardo Però non se ne è in possesso Il giocatore del Badolato E Mellace Lancia per lo scatto Di Mungo Spostato ora a sinistra E ancora Carnovale Il numero 4 Matteo Che non riesce A mantenere In campo il pallone E quando stiamo viaggiando Sul ventitresimo minuto Di gioco Del secondo tempo Il risultato E' sempre di 2 a 0 Ma il Badolato Certamente Non sta perdendo tempo Ecco che esce Romeo Ed entra Ed entra Kemal E' uscito il numero 2 Romeo Ed è entrato Kemal Quindi anche Gesualdo Calabrese Muove le sue pedine Nonostante che Romeo Ha svolto Un'ottima partita Probabilmente C'è bisogno Di minutaggio Anche per Kemal Il numero 13 Riceve ancora la palla Francesco Fiorentino Che controlla La spera Cerca l'imbucata Per Marco Vosci Ma il pallone Non lo raggiunge E finisce In rimessa laterale Su intervento Di Cavallaro Oggi abbiamo Marco Vosci Alla Higuain Si è visto poco Per quanto riguarda Il tocco di palloni Però ha fatto Grande movimento Soprattutto ha fatto Un gol importante Quello della tranquillità Per quanto riguarda Il Montepone Scambio ancora Tra Carnovale E Catanzariti Tocco per Asci Parte Cosentino Riceve palla Ma è molto più veloce Chiude con decisione Ienco E quindi il pallone Finisce In rimessa laterale Basciati dal sole Di Montepone Effetto questa rimessa Kemal Per Asci Che ancora cerca Di dialogare Di triangolare Con Kemal Con Mellace Che voleva andarsene In bello stile Ma subisce Il fallo di Asci E quindi Ci sarà punizione In favore del Montepone Quando entriamo Nel venticinquesimo minuto Del secondo tempo Ancora Ienco Che dialoga Con Nania E con l'altro paparazzo Il numero 19 Poi ancora Lombardo Che calcia Con precisione Lì dove c'è Fiorentino Che quando stoppa La palla È come se desse Un bacio al pallone Perché è veramente Elegante E sopraffino Se ne va ancora Vetrano Altro giocatore importante Tambureggiante Il pressing Di Benito Mungo Però alla fine Si districa La difesa Del Badolato Anche se il pallone Colpito di testa Da Conidi Poi è facile Preda Di Gianmarco Lombardo E ancora Nania Che riceve il pallone Pressing Del Badolato Non penso Che il Badolato Possa mantenere Questo ritmo Fino alla fine Dell'incontro Anche se i giocatori Si stanno impegnando Moltissimo Cabba Anticipato da paparazzo Domenico Voci Scambio con Mellace Non sembra Una partita Di fine stagione Sul 2-0 Per la squadra di casa Sembra un confronto Importante Magari fissato Ancora sullo 0-0 Riceve palla Fiorentino Che si appoggia Per Conidi Con Mellace Che chiede E riceve la sfera Cercando ancora Il movimento Dei propri compagni Che si stanno Spostando lungo Il fronte di gioco Verso la sinistra Proprio come dicevamo Per allargare La zona d'attacco Del Montepone Che mal impedisce A Ienco Di gestire il pallone Quindi ci sarà Una rimessa laterale In favore dei gialloneri Di mister Pisano Con Nania Che dà ancora A Mellace Giuseppe Il Montepone Sta gestendo La partita Però con grande rispetto Dell'avversario Anche con grande ordine Beh io penso Che questo badolato Meriti rispetto Anche perché Se giunti Al 22 25esimo Del secondo tempo E sotto Di due gol Sta comunque Giocando Giocando La sua partita E' chiaro che Il Montepone Non spinge Più di tanto Non ha interesse A spingere E il badolato Che deve aprirsi Il badolato Che è in inferiorità Numerica Non può Esercitare Una spinta Come dovrebbe Per cui Il Montepone Cerca di gestire Con saggezza I tempi di gioco Leggendo bene Quello che è Il gioco Di questa gara Grazie Giuseppe Intanto Uno spettacolo Nello spettacolo Rappresentato Dai Penso siano Più che Non più che Pulcini Dei bambini Che all'inizio Del secondo anello Del fra Botto Mannis Stanno giocando A pallone Divertendosi E amando Questo sport E ancora Il pallone Che viene intercettato Da Catanzariti Il rilancio Però è Preda di Nania Che lo appoggia Subito Appoggia subito Il pallone A Mellace Conidi Chiede palla La riceve Un po' Come Barzagli E Ape subito Per Fiorentino Scambio ancora Tra i due Con Cabba Che va a fare Pressing Insieme a Vetrano Ma Fiorentino Si è creato Lo spazio Sovrapposizione Mungo Premia lo scatto Di Fiorentino Ha di fronte A sé Cavallaro Fiorentino Mette in mezzo Il pallone Stop di petto Di Matteo Carnovale E il Badolato Riesce a chiudere Anche questa insidia Con una sovrapposizione Dell'esterno Fiorentino Veramente degna Di nota Apertura In direzione Di Cosentino Ienco Però si intromette Appoggia per Marco Voci Paparazzo Lancio in profondità Per Domenico Voci Ancora una volta Carnovale Dice no E riparte Il Badolato Con Catanzariti Badolato Maidomo Catanzariti Che trova La forza Anche di impostare Il pallone Scambiandolo Con Marco Carnevale Però c'è il ritorno Di Domenico Voci Sembra che Non stiano correndo Da quasi 70 minuti Questi giocatori Kemal riceve palla Non riesce a controllarla Inizialmente E poi Ienco Gliela mette In rimessa laterale Che sarà battuta A favore Del Badolato Vediamo Chi ora La effettuerà Sarà proprio Kemal Con Vetrano Che va a recuperare Palla Colpisce i test Cercando di metterla In mezzo Riceve probabilmente Un fallo Si fermano I giocatori Del Montepone Forse qualche Crampo Per Vetrano Con Mellace Che mette la palla Direttamente In rimessa laterale E quindi sarà Cosentino A effettuare La rimessa Per restituire Il pallone Ai giocatori Della squadra Di casa Nella persona Di Gianmarco Lombardo Che riceve Il pallone Il portiere Del Montepone Lascia la sfera Per Conidi Che l'allarga Poi subito Per Francesco Fiorentino E poi Domenico Voci Che scambia Con Paparazzo Viene chiamato In causa Ancora Fiorentino E ancora Paparazzo Ripetiamo Paparazzo Classe 89 E continua La stretta trama Di passaggi Della squadra Di casa Con Ienco Che riceve A di fronte a sé Un avversario Che mal Tocca per Marco Voci Apertura per Domenico Voci In questo caso Impreciso Annotiamo Che al trentesimo Minuto di gioco C'è un errore Di passaggio Di Marco Voci Ora se ne parlerà Per un altro errore Tra 25 anni E intanto Vediamo che Entra in campo Leuzzi Si prepara L'uscita Che va a sostituire Il numero 9 Cab E quindi abbiamo L'ingresso Di Leuzzi Dopo Kemal In questo caso A sostituire Cab Che ha lottato Di fisico Un giocatore Valente Che sicuramente Ha detto la sua In questa partita Anche se Avendo il numero 9 Sulle spalle Per contratto Avrebbe dovuto Segnare Almeno un gol Ecco che Domenico Voci Tocca per Marco Voci Ha di fronte a sé Carnovale La palla rimbalza Kemal Appoggio per Cosentino Parte Asci Cosentino però Viene pressato Con un ritorno Da parte di Domenico Voci Si stringono E battono la mano E battono il 5 I due giocatori E Leuzzi Recupera Il pallone Scambiandolo Con Cosentino E poi Asci Che gira su se stesso Preferisce Aprire il gioco Spostando il baricentro Della partita Verso Cavallaro Riceve ancora Vetrano Piccolo Ma sicuramente Molto valido Appoggio per Carnovale Che cerca il cross Mette la palla in mezzo Fa buona guardia Gianmarco Lombardo E conquista Il pallone Giuseppe Comunque un badolato Che sta giocando La sua partita E soprattutto Sta ragionando Cioè non attacca Testa bassa Ma applica degli schemi Sì sì L'abbiamo già detto Sta esercitando Quello che sono I dettami In partiti Da mister Calabrese Sta giocando Una buona gara Un calcio Sbarazzino Ma abbastanza Ragionato Per quanto concerne Le fasi centrali Del rettangolo Di gioco Non avevamo detto Fin dall'inizio Il badolato È venuto qui A briglie libere Perché non ha più Nulla da chiedere A questo campionato A fare la sua partita La sta facendo Malgrado sia sotto Di due gol Cerca comunque Il gol della bandiera Ed è Una bella partita Se vuoi Giorgio Ed è bello Anche il recupero Di Catanzariti Che su assist Di Fiorentino Per poco Non vedeva servito Marco Voci È riuscito Anche in questo caso A chiudere bene Quindi tutto molto bello Perché si tratta Di giocatori Che stanno onorando Lo spettacolo Dello Dello sport E intanto La palla è finita In rimessa laterale Questa volta Sarà Francesco Fiorentino A effettuare la stessa Sempre nei compronti Di Mellace L'eylander Metronomo Del centrocampo Del Monte Paone Che riesce Comunque a gestire Tutti i palloni Cercando di allargare Il gioco O se non altro Organizzandolo In maniera da renderlo Facile per i suoi compagni E ancora Nania Che tocca Per Gianmarco Lombardo Che Ama portarsi Almeno a 25 metri Di distanza Dalla porta Conidi Non controlla E poi è costretto A un intervento Deciso Su Vetrano Che stava Per intervenire E qui vediamo Mimmo Cosentino E Giuseppe Ranieri Che si stanno chiedendo Se era fallo Sentiamo prima L'ex arbitro Mimmo Era fallo Sì per me Era fallo L'arbitro ha fatto bene Non era da munizione Però il fallo c'era Mimmo ha detto così Senza avere nessun monitor Giuseppe Ranieri Invece con i monitor Ha detto che era fallo No io Io ho visto Toccare prima il pallone La palla si è alzata In contrasto L'avversario è andato giù Per me Per me non è fallo Attenzione Arriva una palla In aria con Idi Catanzariti Probabilmente con un braccio Il rilancio è per Marco Voci Che ha di fronte a sé Carnovale Lo punta Cerca di evitarlo Marco Voci Aspetta che salga Anche il resto della squadra Ma Carnovale Si tratta di Matteo Fa buona guardia E impedisce Impedisce Al giocatore Montepaone Di partire in contropiede Mimmo Ma tu un po' di invidia Perso questi arbitri Che a un certo punto Si guardano la televisione Durante la partita Non ce l'hai Ai vostri tempi L'avreste utilizzata La VAR Chi ci pensava Chi ci pensava La VAR Poi ai nostri tempi Era diverso Anche perché Si giocavano Soltanto 11-11 Non c'erano neanche Neanche le sostituzioni E quindi Era Ci erano delle regole diverse Meglio oggi O meglio ieri Ma forse Forse era meglio ieri Forse era meglio ieri E speriamo di avere Comunque un domani migliore E intanto ringraziamo Comunque Mimmo Cosentino Che nonostante Stia prendendo appunti Per il pezzo di domani Si presta A questi nostri interventi Ed è Kemal Che effettua La rimessa In gioco Quando stiamo Per entrare Negli ultimi Dieci minuti Di gara Con Paparazzo E Domenico Voci Che toccano Per Mellace Apertura Ancora per Conidi Ed è da notare Come negli scarichi Che vengono effettuati Nei cambiamenti di posizione Comunque il Montepone Abbia sempre Uno o due giocatori In posizione centrale Per poter gestire I palloni E poterli mandare Poi a destra Sinistra Dove gli esterni Svolgono un lavoro Forse oscuro Ma sicuramente Utile Anche se faticoso Mellace Tocco per Paparazzo Il giovane Che evita con un tunnel Il numero 8 Marco Carnovale Però il lancio In profondità Viene fatto proprio Da Audino Che con sicurezza Recupera il pallone Rilancio di Audino Ancora con Idi Che Franco bolla Cosentino Il pallone Poi per Mellace Con Cosentino Ancora in pressing Sta dando veramente Tutto questo giocatore Anche se ora Si tocca le caviglie Probabilmente Ha rischiato Una piccola distorsione Su di una buca E vediamo Che lo aspettano Con Conidi Che manda il pallone In zona sponsor E quindi noi Notiamo Che il pallone È finito Proprio sotto Un importante Cartellone pubblicitario E forse qualcosa Di più complicato Quella che colpisce Cosentino Perché viene chiamato In campo Il massaggiatore Del Badolato Speriamo comunque Niente di grave Per il giocatore Appunto Della squadra Di mister Calabrese Ricordiamo Che appunto Cosentino È anche il bomber Con otto reti Poi c'è Valente Con sette Marulla E vetrano Con quattro Catanzariti E lentini Con tre retri All'andata Ricordiamo La partita Finì Due a zero Per Il Monte Paone E le reti Sono state Di Marcellino E neanche a dirlo Di Marco Marco Voci Quindi si sta un attimo Ripetendo Il risultato Dell'andata Mentre Luigi Sinopoli Si sta riscaldando Vediamo quale sostituzione Proporrà ora Mister Pisano E probabilmente Sinopoli Entra al posto Di Domenico Voci Se non andiamo Errati No Si è fermato E quindi Esce Esce Nania Eccolo Era quello più lontano Esce Nania Applauditissimo Dalla torcida Del Monte Paone Ed entra Sinopoli Quindi un'altra sostituzione Con mister Pisano Che saluta Affettuosamente Nania Che oggi Chiamato in causa Ha risposto veramente Alla grande E vediamo ora Come si organizzerà Il Monte Paone Mentre viene giustamente Cavalleriscamente Restituita La palla Al numero uno Gianmarco Lombardo Quindi mister Pisano Sta facendo un po' Entrare in campo Le forze fresche Dalla panchina Una panchina lunga E importante Quella del Monte Paone Paparazzo Classe 89 Mentre vediamo Che Cosentino Sta tirando sui calzettoni Il che è un gesto Che dimostra Come il giocatore Voglia rientrare in campo Mentre ci sembra Che anche Ettore Menniti Si era preparato Per entrare Ma Cosentino Ce la fa Anche se probabilmente Non ha chiesto Di rientrare all'arbitro Ma speriamo Che in questo caso Sia Magnanimo Leuzzi Che fischia Poi il fuorigioco Giuseppe Ha chiesto Di rientrare Cosentino Hai notato Se lo chiedeva all'arbitro No Io non ho visto Un gesto Di permesso Nei confronti Dell'arbitro Cosentino L'ho visto Entrare Diretto E allora Possiamo dire Al signor Platì Che comunque L'aveva chiesto A noi E che quindi Va bene lo stesso Ok per Cosentino Che oggi ha disputato Veramente Una partita importante Trentottesimo minuto Di gioco Montepaone Due Badolato Zero Le reti di Procopio E di Marco Vosci Con il Badolato In dieci uomini Dalla fine Del primo tempo Che però Ecco la squadra Di mister Gesualdo Nonostante L'inferiorità numerica Sta giocando bene Con Cavallaro Che ora se ne va Sulla fascia Mette in mezzo Un pallone Ma lì Al centro Quasi dell'area di rigore C'è un muro Si chiama Conidi E la palla rimbalza E finisce In calcio d'angolo Calcio d'angolo In favore del Badolato Con Catanzariti Vediamo Cosentino Che sta alzando Il braccio Probabilmente Per dire alla panchina Qualcosa Probabilmente Non ce la fa Mister Calabrese Sta dicendo ai suoi Di fare riscaldamento Parte la parabola Mellace Ribatte Vetrano Cerca il tiro Però la palla Finisce A Kemal Tiro di Kemal Ribatte ancora Conidi Ed è Matteo Carnovale Che chiama addirittura In causa Audino Per poter Evitare che il Montepaone Recuperi il pallone Anche se vediamo Che i giocatori In questo caso Paparazzo Vanno a fare Pressing Colpo di testa Di Ienco Con Domenico Vosci Che non riesce A controllare Ma è ancora Mellace Che stoppa il pallone Lo appoggia per Sinopoli Che a sua volta Lo scede A Conidi Che fa scorrere Poi Sull'estremo Out Di destra Verso Fiorentino Che gli restituisce La palla Trentanovesimo 44 secondi Una manciata Di decimi Giuseppe Arrivato il momento Di indicare I due giocatori Per squadra Che meritano Il titolo Di migliori In campo Per il Badolato Possiamo Senza ombre Di dubbio Dire Cosentino E Asci Anche se Audino Ha fatto Una bella Prestazione Per il Montepaone Mellace Conidi Mellace Conidi Hanno letto Bene Conidi La trama Difensiva E Mellace Ha retto Bene Quello Che è il Fulcro Del gioco Giallo Verde Quindi queste Sono le indicazioni Di Giuseppe Ranieri Che voi potete Confutare O accettare Attraverso Il tasto Fucsia Posto in basso Alla sinistra Del vostro telecomando Intanto Recupera ancora Il pallone Paparazzo Lo scarica Su Mellace Che apre Poi per Conidi Che avanza E poi tocca Per Paparazzo Classe 1989 Però Vetrano Approfitta Del tocco Di Cavallaro E cerca Di evitare Il ritorno Degli avversari Ma portandosi Portandosi La palla In out E vediamo Che purtroppo Cosentino Non ce la fa E quindi Sarà Menniti A sostituirlo Un applauso A quest'altro Importante Rappresentante Del calcio Comprensoriale Ettore Menniti Oggi In versione Presumo Centrocampista D'attacco Anche se Noi l'abbiamo Sempre apprezzato Come squisito E ottimo Portiere Comunque Sostituisce Un Cosentino Che riceve Il applauso Anche da Mister Calabrese Approvato Fino all'ultimo A dare l'anima Per il badolato E quindi Un applauso Al giovane Cosentino E ancora Il tocco Per Cavallaro Mentre Ci piace vedere Che Cosentino Va anche a salutare La panchina Del Monte Paone Mellace Tocca di testa Evitando il ritorno Di Menniti E appoggiando Persinopoli In questo caso Menniti Funge da punta Avanzata Anche se Lo aiuta Anche Carnovale Il tocco Favorisce Paparazzo Che cerca di entrare Nella difesa Con Cavallaro Che con eleganza Evita sia lui Che Benito Mungo E poi rilancia Di sinistro Per una zona del campo Dove non c'è nessuno Addirittura non c'è neanche il campo Perché finisce fuori Rimessa laterale In favore del Monte Paone Toccherà A Francesco Fiorentino Effettuarla Con le mani Siamo al 42esimo minuto Il risultato È sempre di 2-0 Per il Monte Paone 0-0 Nella seconda frazione Di gioco Che appunto Il Monte Paone Ha preferito Amministrare Con attenzione Lancio in profondità E Audino Con i guantoni Pieni di colla Fa sua la palla Bloccandola con Sicurezza Tocco per Kemal Che riceve palla Subito pressato Da paparazzo Classe 91 Si affida poi a Carnovale Altro importante elemento Del Badolato Con Vetrano Che poi tocca per Carnovale Si tratta però di Marco Proiezione di Menniti Entra anche In gioco Leuzzi Riceve palla Kemal Mette la palla in mezzo Gliela ribatte Mellace Ma ancora il Badolato In attacco Addirittura viene chiamato Sulla fascia sinistra Cavallaro Ad accelerare Per cercare di mettere La palla in mezzo Poi preferisce Favorire Vetrano Che riceve palla Punta l'avversario Mette la spera in mezzo Sicura L'uscita di Gianmarco Lombardo Che poi Evita di rilanciare subito Per poter guadagnare Qualche secondo Ora che siamo Al 43esimo minuto di gioco E quando siamo giunti Praticamente Alla fine All'epilogo Di questa partita Mi sia consentito Anche spendere due parole Per la squadra tecnica Di S1 TV Che ci ha Accompagnato In tutti questi mesi In queste telecronache Qui Dal Frabotto Mannis Abbiamo già citato Antonio Siciliano Pasquale Lentini Maurizio Vatrano Giuseppe Ranieri Da ricordare anche Sasai Apello Antonio Mauro Anton Luca Franco In quel coordinamento Giornalistico Di Adele Chiaravalloti Quindi siamo stati In tanti Ci siamo divertiti E speriamo Che l'abbiate fatto Anche voi E noi vi abbiamo portato Sulle onde Dello scatto Di Ienco Arrivare al centro Dell'area di rigore Con Ienco Che recupera ancora Palla Ma con Kemal Che fa buona guardia E il Badolato Che riesce A liberare il pallone Mellace Riceve ancora Mungo Ma c'era un fuorigioco Di rientro Da parte di Un giocatore Del Montepaone Dicevamo quindi Una squadra Quella di S1 TV Che è stata qui sul campo A Montepaone Fiera di poter raccontare Le geste di questi eroi E uno di questi E ci alziamo tutti in piedi Mentre entra appunto Il numero 23 Carpino Uno di questi L'Eylander Armando Mellace Che ancora una volta Esce per avere La standing ovation Di un pubblico Che lo ama Mentre l'arbitro Segnala addirittura Tre minuti di recupero Anche se gli segnala ora Che siamo al 44esimo E quindi dopo i ringraziamenti Dovuti A tutta la gang Di S1 TV Che appunto Ha trasmesso Le geste del Montepaone E speriamo ancora Di poter raccontare Qualcosa di importante Di questa squadra Quando rientrerà Dalla trasferta di Mileto Domenica prossima Vediamo che il Badolato Che comunque Merita anch'esso un plauso Continua a manovrare Con un vetrano Che viene anticipato Da vari giocatori C'è un attimo Di confusione E Ettore Menniti Che prende un attimo La caviglia Di Francesco Fiorentino Ma sicuramente Senza cattiveria È uno di quei calci Che fanno crescere E gli dà anche una pacca Sulla spalla Al giocatore Del Montepaone Che è rimasto Momentaneamente A terra Dicevamo È stata una stagione Importante Una stagione Che ha visto Il Montepaone Correre sempre In pole position E alla fine Probabilmente Come dice uno striscione Oltre alla bravura Anche dei giocatori Anche il lavoro Costante E lo spirito Di squadra Stanno dando Dei frutti Importanti Così come Gli sta dando Il lavoro Di tutta l'equipe Che ruota intorno A mister Alessandro Pisano Ed è un'equipe Anche quella Dei sanitari Che vanno appunto A prestare Sollievo Alla caviglia Di Francesco Fiorentino Mentre vediamo Cannistrà Marco Vosci Ienco Che parlano Con mister Pisano Quando abbiamo Già consumato Il primo Dei tre minuti Di recupero Assegnato Da un signor Platì Che non ha demeritato Giuseppe Un ultimo giudizio Sull'arbitro Di oggi Ma nulla da eccepire Ha condotto La gara In maniera Corretta Non ha mai Commesso Svarioni In punto Di decisioni Forse qualche Ammunizione Non dovuta Ad inizio gara Ma per il resto Ha amministrato bene Mimmo Se c'è un signor Platì di Catanzaro Ci sarà anche Un signor Catanzaro di Platì Catanzaro l'arbitro C'è che si chiama Catanzaro Ma guarda caso È di Catanzaro Però non è di Platì Grazie anche A Mimmo E intanto Riceve palla Gianmarco Lombardo Che apre per Conidi Mentre Fiorentino Ha dovuto uscire Per poter essere Curato Lancio in profondità Con Marco Vosci Che viene fermato Dall'arbitro Perché c'è stato Un fallo Nei confronti Di Catanzariti Riparte ancora Il Badolato Con Asci Che nella seconda Frazione di gioco È stato meno appariscente Che nella prima Il lancio è ancora Per Carnovale Marco Il fratello di Matteo Presumo Che riceve palla La difende Con le unghie Con i denti Alla fine Domenico Vosci Gli la toglie Ma l'arbitro Fischia una punizione Vediamo in favore di chi In favore del Badolato E quindi Una chance Per il Badolato Per cercare Di accorciare le distanze Quando siamo al 47esimo minuto E 27 secondi Di gioco Con il pallone Che vede tutta la squadra Del Badolato Ad esclusione di Kemal Proiettarsi nell'area di rigore C'è anche L'altro Carnovale Matteo Parte la parabola Lunga Arquata Il colpo di testa E fa impennare il pallone Il colpo di testa Era di Fiorentino Che intanto è rientrato in campo E quindi ci sarà Un calcio d'angolo Anche se il signor Platì Sta guardando orologio Vediamo se lo farà battere Battere o meno Intanto il pallone È finito lontano Quindi servirà sia un pallone Sia qualcuno Che vada a battere Questo calcio d'angolo E un'ultima parola Va spesa anche Per la società Del Monte Paone Che ci ha colto Sempre benissimo Dimostrando di essere Una società All'avanguardia In tutto E che quindi merita Le soddisfazioni Che si sta prendendo Noi ringraziamo In particolare Il presidente Stefano Pirro Parte vetrano Parabola basta Il pallone Si impenna Benito Mungolo Controlla di testa Cerca di partire In velocità Ma viene chiuso Dall'intervento Del giocatore Del badolato E il triplice Fischio finale Del signor Platì Ci permette Tra gli applausi Dei tifosi E dei giocatori Del Monte Paone Ci permette appunto Di salutarvi Ribadiamo il risultato Finale Monte Paone Due Badolato Zero Rete al decimo Di Procopio Al quarantacinquestimo Il primo tempo Sul rigore Di Marco Voci E ora Ricordando sempre Perché il pensiero È sempre lì Gregorio Vatrella Il nostro numero dieci C'è il saluto Che i giocatori Del Monte Paone Faranno Alla torcida Che è impazzita Gli applaude Dando appuntamento Alla trasferta In quella di Mileto Che potrebbe Sancire E diciamo potrebbe Perché nel calcio Siamo tutti scaramantici Potrebbe sancire Qualcosa di importante Per questa squadra Per questa realtà Grazie dell'ascolto E a presto risentirci Ciao 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 Ricevitoria Gerace A Monte Paone Ripo Da noi puoi giocare Superera 8 Totogol Totocalcio Trist giornaliere E Win4Life Ogni ora Agenzia autorizzata Per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche Pagamento bollette Dal 1975 Dal 1975 Al tuo servizio Ed in attesa Della tua giocata Vincente Puoi consumare Un gustoso aperitivo Nell'annesso bar Ricevitoria Gerace Vi aspettiamo In via Padre Pio A Monte Paone Su di noi Puoi scommetterci Piùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù Grazie a tutti.